Salve, io sono Pio e bentornati nella CazzoCraft, la serie di Minecraft Survival con il nome più bello del web. Signori, come avrete visto dalla intro, mi trovo ancora nella locanda del pirata, perché ho fatto off-camera qualche piccolo cambiamento. Non sono cambiamenti epocali, perché non ho fatto chissà cosa a livello di struttura o altro, però ci sono dei piccoli cambiamenti che secondo me abbelliscono comunque abbastanza la locanda. E prima di andare avanti, io porca madonna, come al solito, mi sono dimenticato di mettere il cazzo di timer. Maledizione, non c'è una cazzo di volta che mi ricordo. Vabbè, siamo appena partiti, direi che posso tranquillamente mettere 15 minuti, sì, va benissimo 15 minuti. Sperando il telefono non muoia, visto che sta a scarico, prima ancora che suoni il timer. Ma vabbè, comunque, andiamo avanti, vi faccio vedere velocemente i cambiamenti che ho fatto. Partiamo dal magazzino, dove vabbè, qui ho messo tutta la roba che avevo nell'inventario, come anche qui. Infatti l'inventario ce l'ho vuoto, ho un botto di legno, adesso vedrete il perché. Che comunque, come vedete, ho aggiunto qualche pezzo di taff, perché, sinceramente, secondo me dà più texturizzazione. Soprattutto qualche blocco un po' più scuro ci sta, visto che comunque è abbastanza chiaro. Mi serve qualcosa che vada sullo scuro, un po' come il Dark Hawk. Anche se, ripeto, che poi magari in futuro lo cambieremo con lo spruce, che è leggermente meno scuro. Però, comunque, mi serviva qualcosa di un po' più dark, diciamo così, più che altro per dare alla locanda del pirata la sensazione di sporco vero. Perché comunque il verde soltanto delle alghe del moss non rende. Ho aggiunto qualche nodio, forse qua non ne ho aggiunte queste e qua, le avevo già messe nello scorso episodio, nell'ultimo episodio. Però, come vedete, le ho aggiunte all'interno comunque della locanda, giusto per far vedere che è ancora più sporca. L'idea non è tanto quella di mettere delle liane, perché alla fine queste sono liane, ma è più che altro farle sembrare magari tipo alghe o comunque muffa, muschio. Fra l'altro già si è sparsa su tutto il muro, incredibile, anche qui l'ho messa sopra e si è sparsa già lì, pure qui. Oddio, che bello. Comunque, sì, ho aggiunto un po' di queste liane, perché... cioè, liane, alghe, perché saranno alghe o muffa, che secondo me danno un tocco in più. E poi, come vedete, ho aggiunto la cosa più importante che sono i quadri. C'è questo quadro con il teschio su, credo, una barca, che credo sia la cosa più indicata qui all'interno della locanda del pirata. Come vedete, prende praticamente tutto il muro. Questo mi è uscito a caso, io l'ho schiacciato qui al centro e si è preso tutto il muro e mi va benissimo. Poi c'è questo qui con il teschio, che comunque stanno dietro le lanterne, io non sapevo si potessero mettere, però si sono messi da soli, quindi mi va benissimo. Questa col teschio è molto carino. Qui l'ho messo uno a caso, non so esattamente cosa rappresenti, però mi è uscito così da due, pensavo uscisse da quattro, comunque l'ho lasciato, vaffanculo, ci sta bene. E poi come vedete qui all'entrata ho messo un po' più di quadri, questi sono tutti da uno, non ho idea di cosa rappresentino. Questo sembra un cactus, le altre non lo so, questo forse è un paesaggio e questo boh, non si sa, non si capisce. E poi ci sono due quadri all'entrata dove questo qua è ripreso anche poi da lì. Sono uguali, però non lo so, il teschio ci sta. Mi ricordavo ci fosse tipo un quadro da un blocco anche con il teschio, ma non sono riuscito a trovarlo. Può essere che non ci sia, magari ricordo male. Poi ho messo questo qui con un tizio a caso che sembra prendere fuoco perché volevo occupare maggiormente la parete perché sembrava vuota. E niente, mi è uscito questo, ho lasciato questo che sembrava carino. Anche qui come vedete ho aggiunto qualche liana che ci farà da alga barra muffa. E poi altri cambiamenti, vabbè a parte il taff che ho messo un po' dappertutto, tranne qua, mi sono completamente dimenticato. Vabbè poi se mi ricordo lo faccio off camera. Ah, ho cambiato il bancone, se vi ricordate era solo questi due blocchi e qui era tutta terra. Invece ho levato la terra, ho messo tutte slab con ai lati gli scalini, al contrario. Come anche qui c'era il blocco intero. Oh mio Dio, mi sono dimenticato di cambiare questo. Vabbè poi se mi ricordo lo farò, però non mi ricorderò mai. Lo so già che non mi ricorderò mai. Taff, ne ho ancora taff, sì. Andiamo a levare questo, mettiamoci il taff, ok mi va benissimo così. Andiamo a rimettere il taff al suo posto e Cobblestone, vabbè quel pezzo me lo darò con me. Qui, oddio, potevo pure cambiare qua, vabbè ma sti cazzi. Comunque qui dicevo c'era il blocco intero, ho messo lo scalino e altri cambiamenti. Ah sì, ho usato le ink sac per rendere evidenziate, luminose le scritte qua a magazzino e locanda del pirata. Come vi faccio vedere anche qui all'entrata ho aggiunto cartelli, sempre la locanda del pirata, ho scritto entrata e la freccia. Ho aggiunto, ah no, ho levato le liane che c'erano qua sopra, l'ho messa una qui sopra. Ho finito penso tutte le liane che avevo perché sì, credo che dovrò andare a farmarne altre, ma tanto ho fatto la farm manuale al centro dell'isola, qui ho aggiunto le torce nel fungo che vanno all'illuminazione. E per il resto non ho fatto altri cambiamenti off camera, anche perché comunque l'intenzione era quella di iniziare magari off camera anche la costruzione qui dell'attracco delle navi per i pirati che vengono alla locanda, però ho deciso di farla in camera così, tanto non è un grande progetto e così lo vediamo tutti insieme. Allora ho già avuto qualche idea, senz'altro l'attracco delle navi essendo una specie di piccolo ponte a parte rispetto a quello che faremo grande poi al centro, senz'altro dovrà essere rialzato di un blocco, quindi l'idea è quella tipo di partire magari da questa altezza e quindi magari così con le navi che arrivano qua praticamente e c'è un po' di spazietto. Andiamo a levare magari questo qui, solo che devo aprire un po' la parte di terra perché ovviamente si bella l'insenatura che si è creata, però un po' me è un po' piccola, quindi voglio andare a creare un po' più di spazio perché comunque voglio mettere degli scalini, voglio fare le cose fatte bene, qui poi c'è tutto il percorso che porta alla strada. Diciamo che l'idea principale era quella di andare ad aprire questa parte e magari farla proprio spianata. Oddio non so se la voglio spianare fin qua o fin qua, proviamo a spianarla tipo fin qui, vediamo come sembra, giusto per capire se mi può piacere. Senz'altro questo qua lo devo levare, devo levare anche ma avere questi due. Non lo so, mi può piacere così? Potrebbe, però mi stonano questi due blocchi che ho messo perché non mi fanno capire bene come esce. Allora, non mi piace il fatto che sia completamente squadrata qui, quindi farò una cosa di questo tipo. Ok, secondo me è un po' più carino. Voglio però allargare ulteriormente qui perché voglio due blocchi laterali. Quindi apriamo anche questa parte qui e leviamo la terra che è senz'altro inutile. Ok, ho levato tutta la terra da questa parte, forse farò la stessa cosa anche qui. Sì, direi di sì perché voglio due blocchi su tutti i lati perlomeno. Ovviamente sì, qua ci sono tre blocchi e qui quattro, però intendo due blocchi nella parte principale, come vedete anche qui e voglio la stessa cosa anche qui dietro. Più che altro perché voglio dello spazio per fare magari una specie di scaletta che porta giù. Oddio, qua dove sto levando sta terra all'angolo potrei metterci tipo un pillar di legno, completamente a caso, con magari tipo dei cartelli, non lo so. Però effettivamente ci sarebbe bene, secondo me, non lo so. È da provare, non ne ho idea. Proviamo col dark oak? Non lo so. Mi può piacere? Ah sì, dai, ti dirò. Non è neanche male, magari potrei fare tipo una specie di piccola copertura per questa parte fino ad arrivare lì, non lo so. Penso, sono idee e poi non ne ho idea. Vediamo come esce. Comunque diciamo, come spazio questo ci sta? Forse è da rifinire un po' qui. Magari sono da levare? No, questo no. Magari questo e questo. Ok, qui finisce con un blocco. Magari facciamo così e magari facciamo anche qui così. Vabbè, a questo punto facciamo anche qua. Ok. Generiamo un po' più di spazio perché potrebbe senz'altro servire. E ora dobbiamo partire con l'alzare tutto. Ora voglio alzare di un blocco o di mezzo blocco? Effettivamente, secondo me, la cosa migliore è farla di un blocco intero. Oddio, forse potrebbe essere bello pure due blocchi. Non lo so. È da valutare? Eh, non ne ho idea. No, dai, facciamo di un blocco. Alziamo di un solo blocco. E la banchina, perché quella poi alla fine si chiama banchina, direi che la faccio partire da qui. La facciamo partire da qua? Proviamo a farla partire da qui. Deve eseguire comunque l'andamento, non con la terra però, deve eseguire l'andamento comunque della terra. Sì, vabbè, ok. Del suolo, ok? Del pavimento. Quindi comunque deve avere la stessa forma perché è più bello, secondo me. Vabbè, oddio, quegli interni li posso pure levare. Eh sì, giustamente sono caduto in acqua perché sono stupido. Leviamo questi qua esterni, che tanto agli angoli non ci servono. Ok, la vogliamo fare di due? La vogliamo fare tipo più grande? No, perché poi qua diventa fin troppo piccolo, effettivamente. Quindi magari la potrei fare di due però verso l'esterno, fatta magari in questo modo. E voi direi che a questo punto non cancellavi gli angoli. Effettivamente ha senso, però sono stupido. Quindi facciamo così, facciamo così, facciamo così, così, così e così. Ok, ci potrebbe stare, non è affatto male. Senz'altro devo mettere tipo delle scalette, perché ovviamente le persone che attraccano da qualche parte dovranno salire. Secondo me ha senso mettere tipo la scaletta qui e quel blocco l'abbiamo perso per sempre. No, vabbè, scherzo, lo vado a prendere. Senz'altro voglio andare a riempire comunque col Dark Hawk anche qui sotto. Che, oddio, ci metto le fence? No, facciamo così. Secondo me è molto molto meglio. Lo facciamo arrivare direttamente qui. E anzi, ti dirò, ti dirò, posso fare una posa di questo tipo. Essendo l'angolo, così riprendo anche comunque quello che ho fatto lì dietro. Essendo l'angolo posso fare così. Così sembra veramente una specie di molo fatto come si deve. Ok. Posso fare la stessa cosa anche qui. Quindi faccio uno, due, tre. E la stessa cosa la posso fare anche qui. Quindi allo stesso modo. Uno, due, tre. Ok. Sì, effettivamente è un po' piccolo come molo, però sti cazzi, signori, sti cazzi. Sti grandissimi cazzi. Ora andiamo a riempire con le blinks qui, qui, qui e qui, anche qui. Poi anche questo. E credo bassa. Sì, ok. Ci può stare. Allora, devo dire, male male non è. Non è bellissimo, ma non è manco bruttissimo. Effettivamente però ci stanno un po' male questi tronchi che escono qui sopra. Forse se fossero stati un po' più piccoli sarebbe stato più bello. Però posso mettere magari le fence. Mette una fence così, una fence così, una fence così. Sembra brutto. Molto, molto brutto. Però magari ha il suo senso, non lo so. Magari facendo tipo così facciamo tutto il contorno. Però a sto punto qua devo allargare perché altrimenti non si può passare. Anche qui. Qui allo stesso modo. Ok. Quindi diciamo l'unica entrata è questa. Beh, non ha molto senso effettivamente. Sì, non ha assolutamente senso. Infatti qua mi sa che l'allargo. Quindi allungo magari tipo anche qui. E magari anche qui. Questo lo elimino. E faccio magari un'altra entrata qui. Quindi mi vado a prendere. Oh, l'ultimo scalino. Perfetto. Vabbè tanto terra ne abbiamo in abbondanza. Questo vabbè ce lo vado a mettere qui dietro. Ok. Così abbiamo praticamente due punti di salita. Mi servono un altro po' di planks. Me le faccio subito. E poi andiamo a mettere uno qui. Qui ci abbiamo spazio. Sì, qua no. Vabbè. A sto punto vado a riempire anche qua. Oddio mi piace così. Non lo so eh. Vabbè a sto punto facciamo tutto con le planks. Sti cazzi. Riempiamo tutto. E vaffanculo. Facciamo tutto il molo direttamente in questo modo. No. Maledizione. Mi servono altre planks. A sto punto facciamole tutte planks. Vabbè ne ho fatte troppe. Però come al solito io esagero. Non mi regolo. Allora. Leviamo tutto qui. Riempiamo anche questa parte qua. Allora. Qui potrei fare tipo una piccola discesa. Con le scalette. Oppure meglio ancora con le slab. Slab che io non ho. Avevo una crafting table qui o sbaglio? Avevo una crafting table giusto? Dove l'ho messa? No. Ok. Ecco la mia crafting table. Ce la portiamo nella zona di attracco. Ah. Sapete che non è male comunque. Carino. Oscuro. Però carino. Ci sta. Alla fine riprende il legno che si è usato qui. Allora. Mettiamo la crafting table in un posto in cui non ci dà assolutamente fastidio. Tipo qui sopra. Questa crafting table ovviamente me la dimenticherò. Ma la crafting table sotto è cazzo di occhi. Ma chi l'ha mai vista lì sotto la crafting table? Mi ha mai fatto caso? Ok. Ok. Va bene. Non facciamoci domande. La mettiamo queste qua così. E vi devo dire. Male non è. Assolutamente. Assolutamente no. Mi piace. Mi piace. Me ne è rimasta una sti cazzi. Non me ne frega assolutamente niente. Qui direi che ci vado a mettere delle torce perché mi serve un po' di illuminazione. Allora. Come molo in sé non è assolutamente male. Forse vado a cambiare giusto tipo qua sotto perché non mi piace. Quindi continuo con il legno. C'è qualche altro punto sì. Tipo questo qui. Leviamo la terra e mettiamo il legno. Vabbè il resto non è brutto eh. Forse qualche altra fence qui sopra. Giusto per chiudere. Ok. E oddio qui però nell'angolo che cazzo ci faccio. Oddio. Ma dove siete usciti. Ma che cazzo. Allora fatemi mangiare. Tanto ci mettete tre ore ad arrivare. Così nel caso mi colpite comunque recupero la vita. Che non siete capaci di salire qui sopra. Devo arrivare io là sotto. Allora io non vorrei che mi arrivi il tizio col sui dente perché è un po' pericoloso. Bro. Madonna santissima però che ha rottura di palle. Oh è scaduto il tempo. Vabbè tanto ce lo finiamo qua la trappa. Sti cazzi è quasi finito. Ok morite. Grazie. Andate a fanculo. Oh che bello. Dalla porta si intravede il quadro. Che carino. Comunque. Per quanto riguarda l'attracco delle navi. Boh. Io a questo punto allungherei anche da sta parte. Perché se no non ha molto senso effettivamente. Sì. E niente. A questo punto faccio anche così. Sti cazzi. Perciò qua ho fatto un'entrata. A questo punto faccio così. Così. Seguo anche qui. Faccio anche qui così. Così. E magari vado a mettere tipo una salita qua. Magari una salita doppia. E magari qua la salita la faccio con le slab. Slab che ho finito. Me le devo rifare. Mi rifaccio se i slab. Le andiamo a mettere lì. Vabbè. Oddio. Ne manca una. Non è che ne mancano chissà quante. Oddio. Da dove salgo? Non posso salire. Non posso né scendere né salire. Maledizione. Andiamo di qua. Mettiamo le slab in questo punto. Poi mettiamo una fence qui. Eh. Oddio. Qua le fence come le faccio combaciare però. Maledizione. Eh. Queste combaciano qua. E qua mi attacco al cazzo. Eh. Niente. Tu. Mi dispiace. Non farai parte del tutto. Te ne puoi andare affanculo. Posso salire qui sopra? Sì. Perfetto. Ok. Qui abbiamo una salita doppia. Qui una salita singola. Lì una salita singola. Ok. Ok. Non mi dispiace affatto. Vediamolo magari di fronte. Sarebbe bello potersi mettere in creativa volare e vedere come è dall'alto però. Eh. Se vi metto in creativa esplode tutto quindi non ci tengo assolutamente. Ok. Ok. Non è assolutamente malaccio. Direi che mi vado ad eliminare giusto questi qua. Eliminiamo pure questo. Oddio. Quello non c'era bisogno eh. Mettiamo legno. 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 Che cazzo è? Ah è un blocco che sta galleggiando. Oddio. Pensavo fosse qualcosa di nuovo mai visto prima. Lì sotto c'era del carbone. Comunque l'ho visto però non mi ricorderò mai di prenderlo. Perché sono stupido. Ok. 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 Non mi lamento affatto. Molto molto carino. A sto punto io direi che andiamo a mettere del legno da qualche parte. Tipo ad esempio. Cioè del legno. Nel senso del legno l'abbiamo già messo. Però voglio dei log. Che devono riprendere comunque anche la parte che ho fatto dietro. E andiamo a rompere qui. Ci metterò tre anni perché sono sott'acqua. Perché sono una testa di cazzo. Facciamo dove log è quello. Log log log. E magari faccio la stessa cosa anche qua. Quindi rompiamo questi. E mettiamo log log e log. Ok. 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 Assolutamente non brutto. Per niente. Molto molto carino. Ci sta. Ci sta. Non mi posso assolutamente lamentare. Per quanto riguarda le mura. Boh. Le lasciamo così. Sinceramente non è che mi diano fastidio. Quindi sti cazzi. Però magari vado a fare tipo il sentiero qua. Ok. Ho arrivato in questo modo. Sì. Un po' bruttino effettivamente. Magari qua ci sarebbe bene mettere la terra. E farla anche questo sentiero. Ok. Molto molto meglio. Sì. 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 Ti dirò. Ti dirò. Non mi dispiace. Voi direte. Ma le barche non possono arrivare qui a traccare le tente qui sopra? Sì. Però c'è il molo. Si attaccheranno al molo. Per forza. Perché sono obbligati da me. Perché l'ho deciso io. Quindi sì. Ok. Molo carino. Come illuminazione. Beh. Come illuminazione. Lasciamo le torce. Che cazzo me ne frega. Non è che devo illuminare anche qui in modo particolare. Che cazzo. Come le mettiamo queste torce? Le mettiamo tipo qua. Ok. Una qua. Là già ci sono. Magari ne andiamo a mettere una qua. E qui. Giusto un paio qui sopra. Messe pure così spalzate. Ok. Beh alla fine io comunque non voglio modificare le mura del molo. Nel senso ci possono stare bene così. Poi non lo so. Magari adesso che vado a fare il molo principale. Decido di cambiare anche la parte della terra. Magari fare delle mura. Allora poi lo farò anche qui. Però sinceramente l'idea principale è quella di non modificare più di tanto il territorio. Andare a fare un moletto qui. Un molo più grande là. Però comunque deve rimanere lo stile dell'isola. Altrimenti è un po' bruttino. Quindi non voglio cambiare più di tanto. Però non lo so. Eh. Potrebbe sempre essere che magari qualcos'altro la vado a cambiare. Beh senz'altro qui visto che si sono fatti dei gradini praticamente naturali. Non vedo perché non dovremmo fare dei gradini che arrivano fin sopra. Che dite? Cioè potrebbe essere una buona idea? Non lo so. Eh sto sto proponendo. Oddio qua ho sbagliato un po'. Vabbè mo lo andiamo a modificare. Oddio lo faccio tipo dentro di uno. Fatto magari in questo modo. Qui devo andare a mettere la terra. Anche qui. Ok. Così facciamo una specie di scalinata che è anche dall'alto porta qui. E ci dobbiamo fare i gradini che non ne abbiamo. Si fanno così facili facili. Me ne faccio 16 sicuramente basteranno. Faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 addirittura. Ok. Ti devo dire. Ti devo dire. Non è assolutamente male come idea. Anche perché mettiamo caso che un domani facciamo la statua centrale. Cioè non mettiamo caso. Prima o poi la faremo sicuramente. Quindi faremo una bella statua centrale. Facciamo tipo la piazza. Poi faremo tutte le strade che ci portano le varie parti. Quindi questa è la stradina che ci porta alla locanda del porto. Bello. Bello. Ci sta. Idea completamente è venuta a caso adesso che ho visto lì la scala che se l'ha creata naturalmente. Forse la farei più dentro addirittura di un altro blocco. Sapete? Non sarebbe assolutamente male. Ancora più interrata. La cosa senz'altro non mi dispiace. Quindi rientriamo il tutto di 1. Facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vado a mettere di nuovo gli scalini che ho perso. No, eccoli qui. Dove li ho messi? Ma ero convinto di averli presi. Ok. Facciamo così. Eh vabbè. Già qua è diventato... Come si chiama? Muschio lì quel cazzo che è. Ci mette due secondi. Micelio. Eccolo mi vediamo. Micelio. Ok. Ok. Carina. Carina. Assolutamente carina. Magari facciamo anche qui giusto un paio di blocchi. Molto molto bellini. E qui magari facciamo una cosa di questo tipo. Dove magari andiamo a continuare un po' lo stile che c'è giù. Facciamo pure un paio di blocchi magari qua. A sto punto basta. Basta così. Ok. E direi che ci vado a mettere magari un paio di torce. Una qua. Una qua. E una qua. Oddio. Wandering Trader. Cosa mi dai tu? A parte altri lama che potrei tranquillamente prendere. Ma poi come... Cioè sei sponato lì sopra. Questi qua si stanno praticamente. Impiccando. Ma non vogliono. Ma fratello mio. Abbia un po' di rispetto per i tuoi cazzo di animali. Ma porca puttana. Signor Wandering Trader. Perché lei non interagisce con me? Ah ok. Allora mi dà. Corallo giallo. Sugar cane. Il dandelion. Vabbè. Fiore giallo. Colorante verde. Moss block. Puzzle. Ok. A parte il corallo giallo non mi interessa niente. Però io smeraldi tecnicamente non ne ho. Quindi ti dirò. Ti dirò. Se faccio tipo così. Eh? Cioè se tipo ti ammazzo. E ammazzo anche voi. Che tanto i miei lama ce li ho. Tanto comunque mi recupero un po' di esperienza. Dove vai tu? Ok. Mi recupero un po' di carne. E sti grandissimi cazzi. Addio piccolo Wandering Trader. Addio piccoli lama. Fra l'altro i miei lamettini. Come stanno? Ci saranno ancora? Saranno desponati? Tecnicamente non dovrebbero essere desponati. Perché gli ho messo il tappetino. Ah questa comunque è la mia farm di liane. Ecco. Cioè quella manuale. Ogni volta prendo. Poi ripiazzo. Poi crescono. Le taglio. Ovviamente lascio sempre quello in alto. Che poi vanno a ricrescere in continuazione. Ovviamente poi la leverò magari. Oddio automatica. Non credo si possa fare. Che belli i miei lama. Che sono carini. Sono ancora qui. Comunque dicevo. Ovviamente non credo si possa fare automatica. La farm di liane. Però sti cazzi. Poi magari la vado a levare di qua. La facciamo in un posto apposito. Fatta in modo molto più carino. Perché così fa veramente cagare. E soprattutto levo tutti quegli alberi. Che messi così al centro dell'isola. La fanno veramente schifo. Ok ok. Allora siamo tornati qui. Diciamo la locanda del pirata. È terminata. Visto che abbiamo terminato anche la tracco per le navi. Qui ci voglio fare qualcosa. Non so se ci voglio fare una copertura effettivamente. Perché alla fine lì c'è il fungo. Qui oddio. Si può fare una piccola copertura. Però boh. Non lo so. Potrebbe fare qualcosa. Giusto per riprendere un po' il palo che c'è lì. Magari metterne un altro qua. Qua di fianco. Proviamo. Ho finito tutti i log. Ah no ok. C'è qua. Non li stavo vedendo. Se tipo metto un palo qui vicino. Sono alla stessa altezza. No forse devo aumentare di uno. Sì ok. Adesso questa la potrei pure levare da qui. E fare tipo in questo modo. Ok. E qui potrei fare una specie di copertura. A questa altezza. Magari fatta con le slab di hock. Giusto perché è più chiara. E io ad questo punto non dovevo levare la nostra bellissima crafting table. Perché la crafting table mi serve. Facciamo un altro po' di planks. Facciamoci qualche altra slab. E qui potrei fare una cosa di questo tipo. La lasciamo così anche aperta. Tanto sti cazzi non ci importa. Anche qui va bene così. Eh però qua dove si attacca? Si attacca al cazzo. Eh si attacca molto molto al cazzo. Qui non si può attaccare da nessuna parte. A meno che di non continuare questo. Hmm. Oddio l'idea non è poi così male. Devo essere sincero. Continuiamo questo. Magari qualche torcina ce la mettiamo pure qua. Che tanto qualche torcia sicuramente qua ce la devo mettere. Leviamo questa qua. A questo punto ne metto pure un paio esterne. Effettivamente mi sono dimenticato che qualche torcia andrebbe messa anche qui eh. Non vorrei dire ma qualche torcia così interna. Secondo me ci sta molto molto bene. Vabbè qui l'illuminazione c'è perché c'è già sul fungo e sul coso. Effettivamente queste qua forse un po' più in basso sarebbe meglio. Perché se no sembra che prende poco il legno. E non è poi il massimo. Ok. Abbassiamo anche questa qui. Continuiamo magari la copertura. Oddio la copertura fin dove la voglio far arrivare. Eeeh non ne ho idea. Non ne ho assolutamente idea. Beh senz'altro mi deve coprire tutta questa parte qui. Quindi vado a fare magari in questo modo. Anche qui sopra. Eeeh non lo so. Non lo so. Non lo so se mi piace. Anche perché qui non si attacca da nessuna parte. Rimane tipo sospesa. Non lo so. Mi sembra tipo un secondo piano. Non ha molto senso. Non mi convince. Non mi convince. Non mi convince affatto. Forse sarebbe meglio farla tipo in dark oak. Però è troppo scuro. Non. Boh. Non credo. Potrei farla tipo con. Le trapdoor. Tipo. Che sono più. Più scure. E più piatte. Però tutta bugarellata. Che copertura è. Non è una copertura. È una merda. Sapete che è boh. Allora. Per adesso facciamo così. Leviamo tutto. Lasciamo giusto i tronchi che abbiamo messo. Perché ci stanno bene. Dove li ho messi. E poi magari off camera. Penso ad una copertura da poter fare. E se mi viene in mente qualcosa di carino. Qui ho levato la torcia. Che cazzo ho fatto. Maledizione. Fatto la puttanata. Mi sono dimenticato. Porca droglia. Mi dimentico che. Facendo tasto destro con l'ascia sui log. Si smintiano. Diventano i log brutti. Comunque dicevo. Se off camera mi viene in mente qualche bella idea. O la faccio direttamente off camera. E poi ve la faccio vedere. Nel prossimo video. Oppure meglio ancora. Magari la facciamo direttamente nel prossimo video. Non lo so. Valuterò. In base poi a quando mi viene l'idea. Perché se mi viene magari di notte. Mi sveglio. Mi alzo. La faccio. E sennò poi mi dimentico. Se invece mi viene fra qualche minuto. Magari la facciamo già nel prossimo episodio. Però per adesso direi che lascio tutto così com'è. Vado a levare giusto questa. Oddio. Sbagliato. Vediamo questa torcia. Ce la andiamo a mettere a questa stessa altezza. Dietro direi che la lascio lì dove. Perché va bene. Andiamo a vedere giusto un po' più da lontano. Andiamo a vedere dalla locanda del pirata. Ok. Ok. Non è male. Forse un po' troppe torce. Effettivamente. Un po' tantine. Forse qualche lanterna qui e lì ci starebbe bene. Effettivamente sì. Direi che qualche lanterna ci sarebbe meglio. Però direi che magari me ne vado a mettere off camera. O me ne faccio direttamente nel prossimo episodio. Perché per oggi direi che basta così. Ho registrato forse più di 30 minuti. Quindi non voglio editare fin troppo. Direi che è più che abbastanza. Perciò signori da sopra il nostro nuovo piccolo attracco per le navi della locanda del porto. Direi che per il video di oggi è tutto. Se vi è piaciuto mettete like. Se non vi è piaciuto mettete dislike. Ma commentate dicendomi cosa non vi è piaciuto. In modo tale che possa migliorarmi. Se vi sia simpatico iscrivetevi. Magari attivate la campanella. Che a me come al solito non dispiace mai. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao.